Voce è, sarà, nel senso che lo stiamo costruendo, realizzando in questi mesi, un luogo di rigenerazione urbana. Trasformare un vecchio immobile chiuso, murato, abbandonato dentro nel nuovo centro di Milano per farne un luogo, un luogo vero, vissuto dalla comunità, aperto, aperto alle collaborazioni tra enti di terzo settore, istituzioni, imprese per generare nuova socialità grazie all'impegno dei volontari, dei cittadini attivi milanesi che lì avranno un luogo in cui progettare, costruire interventi, innovazione sociale a favore della comunità. Ma sarà anche un luogo per lo sviluppo della comunità qua, locale, specifica del quartiere, un quartiere in parte nuovo, porta nuova, che si innesta con tutti i nuovi edifici dentro in un quartiere di lunga storia milanese, che crediamo, al quale anche noi possiamo portare il nostro contributo per tessere una nuova comunità locale, viva, che aiuti alla vita dei residenti, dei lavoratori, delle persone che usano questo pezzo di città.